Seriamente mi ho messo già tre anni lavorando nella scuola e da quando ho cominciato a lavorare, ho piuttosto di carta a nostra manda. Diferente ministro, differente governo. Dì come ho messo andato a visitare in Bari, non ho messo di ministro di presidente. In realtà mi ho messo a me, ma ho messo a me, ho piuttosto di carta a Caba. Per me mi ho messo a me, però non a me. Ok, non so che da guarda, ma qui che tu vai sali per 16. E mi mi ho messo a me, di un tempo record, non so che hai una sorpresa, camminate a cercare, luce, però non so che stai qui sta bene. E per noi come scuola, sicuramente è una satisfaccia un'ho più grande. La nostra infrastruttura che noi facciamo, non stiamo attaccando per auto. Que non stiamo attraggendo la carretera, per auto può correre più leggera, però non stiamo attraggendo che il cittadino ha fatto uso di gemme, si stiamo attraggendo, non stiamo attraggendo la cera in Nancana, non stiamo attraggendo la zona. E questo cambia dal 4.000 peticioni per overstech platòs per ridurre la velocità della zona residenziale e per la ronde di scuola. E come tal, noi siamo iniziati a fare un parco, e nel caso che nel nostro paese, con la scuola di scuola, non c'è un plateau completo, ma c'è un ribello di un overstech per usere le sole a specializzazioni un attimo di uno strano. Quindi in metres iso, inぐro di un paese de partcio che cammin router dopo due oreze di scuola ma di idossi 320 cm. Il nostro paese di pubblico, nessuno potrezzato verso la scuola, terzo challenges per ridurre un'offertistica di forma, che si trattano e elevati, noi usiamo altri tipi di elementi dove ci sono anche un pollo di push, e noi usiamo per riduzire velocità per arrivare a l'offertistica. Noi abbiamo un'opportunità che abbiamo sempre un'altra parte di marco, ma tutti i aiuti sono costruzzi per riconoscere un'altra parte di qui, per quanto riguarda l'importanza per il trattamento del trattamento che non si tratta, tutto va diminuendo e un'infrastruttura, tanto per la vista, ma anche per la struttura che ho fatto il cammino che non si tratta più malo, è evitato che un'auto si parla e un'auto si parla e un'auto si parla per esempio, e un'auto si tratta poco impaciente, non si riuscita che la parla per la Lagoia del Cruzzo, ma anche per causa di un accidente, non si tratta qui per l'automobile e Borchi, che si conoscevano i automobilisti, non si tratta più di Bollard, ma anche per la prima cosa, ma anche per la prima cosa, e speriamo che un'infrastruttura total per il trattamento, e un'auto si tratta più sicura.